Assessore, numeri da zona bianca in Abruzzo anche per questi ultimi giorni. Ieri il Presidente della Regione Marco Marsiglio ha scritto una lettera al Ministro della Salute Speranza per chiedere di anticipare questa zona bianca, ma al di là di questo, insomma, il dato confortante è che continuano a calare i ricoveri, continuano a scendere i positivi nella nostra Regione. Sì, è vero, è una richiesta che il Presidente Marsiglio ha inoltrato al Ministro Speranza in base ai numeri che noi abbiamo in atto da diversi giorni, da diverse settimane. Abbiamo una diminuzione dei contagi nella nostra Regione e quindi un trend in continua discesa che oltretutto si accompagna a una drastica riduzione proprio nell'occupazione dei posti letto ospedalieri. Oggi abbiamo occupato il 9% dei posti di terapia intensiva e il 13% di quelli in area medica. Quindi siamo molto lontani da quelle che sono le soglie critiche e al di sotto della media nazionale. Basti pensare che appena un mese fa i posti letto occupati erano proprio il triplo di questi attuali. La nostra è una Regione che si basa sul turismo, per cui stiamo lavorando per poter portare avanti la vaccinazione nei luoghi di lavoro. Proprio ieri abbiamo tenuto un incontro con tutte le categorie, proprio per mettere in sicurezza sia i nostri corregionali ma anche coloro che vengono da fuori Regione. Vaccineremo il più possibile, stiamo seguendo la media nazionale e siamo anche attenti a quelle situazioni del qui ed ora, tipo la volontà di poter vaccinare anche i maturandi, in modo da poter mettere in sicurezza la possibilità di sostenere gli esami, quindi vaccinando nei tempi e nei modi previsti. I primi di settembre si arriverà ad una vaccinazione quasi totale della popolazione abruzzese, Sessore? Sì, era il termine che noi avevamo già previsto nella delibera. Quindi stiamo seguendo quello che è stato il programma sia regionale e quello che ci viene dato dal Ministero, dalla struttura commissariale. Continuiamo una campagna di vaccinazione sia riguardo al target, ma soprattutto con le dosi che speriamo di ricevere nel mese di giugno, di poter aprire a tutta la popolazione. Grazie. Grazie.